I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli, della compagnia Napoli Centro e della Polizia di Stato di Napoli hanno eseguito nella mattinata odierna nella zona dei quartieri spagnoli del capologo partenopeo un'ordinanza di custodia della cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta dei magistrati dalla locale di distruzione rispetto all'antimafia nei confronti di 53 persone gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione di tipo mafioso associazione finalizzata allo spaccio e al traffico di sostanze stupefacenti estorsione, ricettazione e detenzione a porto abusivo di armi da fuoco Il primo dei sodalisti investigati e colpiti dall'odierno provvedimento è quello capeggiato da S.E.M.V.E.E.A dedito ad attività estorsive, soprattutto ai danni di commercianti e gestori di piazze di spaccio a controllo e alla gestione della vendita al dettaglio dello stupefacente in particolare modo nelle zone denominate della Pigna Secca, di Largo Baracca e della Speranzella e ad ogni altra attività finalizzata al controllo del territorio in particolare S.E.E. ha ripreso il controllo della zona di Pigna Secca unitamente a E.A. e M.V. operativi nelle zone di Speranzella e di Largo Baracca dopo la sua scarcerazione avvenuta nel dicembre 2019 Le indagini hanno ricostruito anche attraverso le immagini di sistemi di videosorveglianza la frenetica attività rivedita al dettaglio della droga posta in essere presso la famigerata piazza di spaccio della sposa, coincidente proprio con i luoghi nei quali insistono le abitazioni della famiglia Furgiero. Ancora è stato dimostrato come lo stesso gruppo criminale si avvalesse di numerosi pusher che a seguito di contatti telefonici provvedevano a recapitare le dosi di stupefacente a domicilio direttamente presso le abitazioni dei clienti o ai luoghi convenuti con gli stessi